Quinta corsa, premio Lucrezio Caro, doppio chilometro per i tre anni, 10 al vieto per il tiro del numero 3, Asnaur dei Rum, restano in sé in prima fila, Vanna GV, Tommaso Di Lorenzo per Gasparello Verde, Always e K, Giappalo Minucci per Alessandro Gocciadoro, Ale Capar, Gennaro Casilla, Guilei RL, Davide Angeletti, Aldobaglio, Gasparello Verde, Agato Spar, Gaetano Di Nardo. Seconda fila, Matrice Scopa, Paolo Pietropaglio, Alexandra Me, Dario Battistini, Aracazzur, Davide Di Stefano, Abra Cadabra, Oro, Francesco Bettinari. Di Galoppo, Ale Capar, e nel lancio emergono Aquileia RL e all'esterno Agato Spar. Aquileia leader, in seguita da Agato Spar, quindi lungo la corda c'è Avara GV. Agato Spar non perde tempo, va deciso su Aquileia RL e ottiene il via libera in 350 metri, in azione all'esterno di Avara GV c'è il favorito Always e K con Gianpaolo Minucci. Poi dalla seconda fila si è sbrigata Aracazzur che figura quarta in corda, con all'esterno il compagno di allenamento Aldo Baglio. Always e K va deciso all'attacco di Agato Spar che però si oppone. I due prendono vantaggio, Always e K adesso ha spazio per accodarsi a Agato Spar. Lo fa mentre il mezzo miglio iniziale viene completato in un abbastanza veloce. Un minuto e tre decimi. Terza posizione per Avana GV con Al Salchi, il compagno allenamento, scusate, terza posizione per Aquileia RL con all'esterno Aldo Baglio. Poi Avana GV con all'argo, Alexandra Mail e ancora a chiudere Araca Azul e Abracadabra Oro. C'è stato l'errore di Aldo Baglio e allora restano tutti in corda con l'eccezione di Alexandra Mail che continua a progredire all'argo, raggiunge Aquileia RL e la sta scavalcando per il terzo posto. Hanno preso largo vantaggio però Agato Spar e Always e K nei confronti ora di Aquileia RL perché ha sbagliato Alexandra Mail e in quarta posizione c'è Avana GV. Always e K torna all'attacco di Agato Spar, i due sono in largo vantaggio su Aquileia RL e Avana GV quando siamo al completamento del miglio in 1'59'7. si viaggia sul piede l'1.15 scarso con all'interno sempre Agato Spar, all'argo Always e K che rinnova gli attacchi. I due precedono di una cinquantina di metri, Avana GV. Always e K insiste e tende a passare su Agato Spar che non si dà per vinto. Agato Spar è ancora vitale all'interno anche se Always e K è in vantaggio. Always e K di forza ma deve fare un numero per battere un ottimo Agato Spar mentre per il terzo, molto molto più indietro, vediamo che Aquileia RL rientra ad Avana GV. 2.75, l'arrivo ufficioso della quinta di Capannele, la vittoria di forza del favorito Always e K. Gianpaolo Minucci in salchi al figlio di Philippe Rocca per il training di Alessandro Cocciadoro. ma Agato Spar è stato avversario di tutto rispetto. 2.29 e 4 sul mio cronometro, media dunque per gli ultimi 2000 metri, media di 1.14 e 7, sarà anche abbassata dai primi 100 metri. Intorno al 2.29 il percorso di Always e K è ovviamente record sulla distanza per Always e K. molto molto bene Agato Spar a larghissimo intervallo, Aquileia RL ottiene la terza piazza e dunque 2.75 l'arrivo ufficioso. Linea allo studio.